Dopo il turno di sosta del campionato di prima divisione Lega Pro, il Suitero si rimette in cammino questa domenica 6 aprile ospitando lo stadio Druso alle ore 15, il Savona col quale condivide il quinto posto in classifica, che regala il vantaggio di giocare in casa il quarto di finale in gara unica degli spareggi promozione in Serie B. Il Suitero si era consegnato la pausa del campionato con tre vittorie di fila, ottenuto in ordine di tempo, a spese di Vicenza, Ferralpi, Salò e Carrarese. Il team di Rastelli in Serie utile da quattro partite, giacché la striscia positiva è incominciata da inizio marzo, col pareggio contro la Cremonese. Contro il Savona il Suitero giocherà la sua seconda gara casalinga consecutiva, seppur intervallata dal turno di sosta, dopodiché i biancorossi faranno visita alla vice capolista Pro Vercelli, per poi tornare al Druso dopo Pasqua, per affrontare il San Marino chiudendo infine la regular season, a busta Assizio contro la Pro Patria. Con 40 gol segnati in 26 partite, quello biancorossi è di gran lunga il miglior attacco del campionato. La difesa è invece la quinta più battuta, ma nelle ultime tre partite disputate Capitan Chiem e compagni hanno subito un solo gol, mantenendo la propria porta inviolata in entrambi i match casalinghi contro Vicenza e Carrarese. Nella gara d'andata disputata Siniguri lo scorso primo dicembre, il Savona si impose per 3-1 sui biancorossi, segnando il solco nella prima mezz'ora di gioco, grazie alla rete di Cesarini e alla sfortunata autogol di Cappelletti. Ad inizio ripresa il terzo gol Ligure, a firma dell'ex biancorosso Francesco Virdis, con Dell'Agnello a riaccendere poco dopo la speranza biancorossa e con campo a fallire il calcio di rigore che avrebbe potuto riaprire la partita. Contro il Savona, mister Astelli non potrà disporre degli infortunati italiani e Dell'Agnello, mentre in difesa rientra Martín sul binario di sinistra, con Capitan Chiem e Bassoli coppia centrale e con Cappelletti confermato a destra. A centrocampo invece Pedersoli sarà in cabina di regia, spalleggiato da Finch e Branca. In attacco infine Minesso e Turchetta saranno gli esterni a supporto di Corazza, che dovrebbe giocare con una maschera protettiva per via della recente frattura del setto nasale. Il Savona è in serie utile da ben sei partite, nelle quali però le vittorie sono state solo due, segnatamente Reggio Emilia in casa contro il Vicenza, nell'ultima partita disputata. In trasferta la formazione Ligure ha raccolto 14 dei 40 punti che detiene in classifica, per effetto di uno score di 4 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte. Dopo sui utili Virtus Entella, Vicenza e Albino Leffe, il Savona ha il quinto miglior attacco del campionato, con 35 gol realizzati, di cui 13 a firma dell'ex biancorosso Francesco Virdis.